Lo so che tu, 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 voi non vi volete iscrivervi al mio canale? Allora, io non so cosa da fare, io non ho un cristall'antena, non ho spazi, non ho niente, non ho un modo per arrivare a te, quindi io rimarrò da solo insieme ai miei serpenti, non ho che i serpenti siano tutta sta gioia, però io speravo 164, sì, sono orgoglioso di averne 164 iscriviti, ma io, io pensavo di fare almeno, quindi, 400, a me lo diciamo insieme invece, invece anche, quindi se vuoi volete solo iscrivervi, iscrivervi o lasciate un like, un dislike, per farmi capire che i miei video o vi piacciono o vi facciano schifo, perché non bisogna avere paura di dire a una persona, se una persona tu fai schifo, fai veramente schifo, come me, che io mi faccio schifo da solo, quindi ecco, questo è un video, non so come chiamare questo video, ma sono molto orgoglioso di dirvi grazie, grazie, grazie per chi non mi abbia mai visto, grazie, se ti iscrivervi a questo canale, grazie, grazie, se l'hai appena fatto, grazie, perché io non so, non so come andare avanti, questo, questo problema, non mi spiace e vi auguro un bacio, un boccalugone, ci vediamo se ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao i serpenti vi saluto ciao belli